Ciao a tutti ragazzi, volevo mandarvi i miei auguri per questo Natale a tutti i tifosi, dirigenza, staff, giocatori della Feralpi Salò, soprattutto gli auguri per questi primi dieci anni dalla Feralpi. C'è poco da dire, sono molto orgoglioso del mio passato, anche se breve, con la Feralpi, però è stata un'annata bellissima dove abbiamo avuto grandissime gioie con la vittoria dei play-off che ci hanno permesso di arrivare in C1. E nulla, è un breve messaggio per augurarvi il meglio, un'ultima stagione. Tanti auguri di Buon Natale a tutti quanti. A presto!